Buongiorno, benvenuti. Io sono Andrea Poltionieri del Museo dell'Informatica e oggi sono qui per accompagnarvi insieme ad altri due colleghi in un viaggio all'indietro nel tempo nella storia del calcolo automatico. Faremo una presentazione che parla della storia dei computer e delle macchine da calcolo più significative, dove più significative è arbitrario, abbiamo fatto una selezione, non potevamo parlare per giorni mostrando tutti i computer della storia, quindi sicuramente ci saranno delle omissioni, dei salti temporali e delle contestazioni. Alla fine ci sarà una sorpresa, ci sarà una calcolatrice che forse è una calcolatrice o forse no. Il titolo di questa presentazione è Leonardo il calcolatore può farvi intuire di cosa si tratta. Allora, questo sono io, non si legge, qua ci sarebbe una scritta ma lì non si legge, sono Andrea Poltronieri, presidente del Museo dell'Informatica e mi occupo di storia dell'informatica da un bel po' di anni. Ero un collezionista e poi ho fatto un salto di qualità cercando di condividere la mia collezione, la mia passione con altre persone. Io farò la prima parte di questa presentazione, parlo dall'epoca moderna, da oggi fino agli anni 70. Il viaggio è all'indietro nel tempo perché è particolare vedere i computer come si evolvono all'indietro nel tempo da una prospettiva diversa da quella a cui possiamo essere abituati. Andiamo a iniziare. Io parlerò dell'iPhone, del Macintosh, dell'IBM PC e della Tria, dei tre personal computer che sono stati mortativamente significativi nel 77. Vi anticipo che gran parte di questi computer sono visibili nella sala fianco poi. Incominciamo dall'iPhone. L'iPhone è stato presentato nel 2007, sono passati ormai 12 anni sembra ieri, ed è, l'abbiamo indicato come l'apice del progresso dell'informatica e delle telecomunicazioni. In pratica noi vorremmo significare che l'iPhone è l'evoluzione, la convergenza dell'evoluzione di 100 anni di progresso nell'informatica e delle telecomunicazioni. E ci fermiamo qui, non andiamo più avanti perché in fondo gran parte dei telefoni che noi usiamo oggi non sono molto diversi da questo. Invece lui è stato molto diverso dai suoi predecessori. Prima dell'iPhone esistevano già altri telefoni, ma non erano così, erano diversi, funzionavano in modo diverso. L'iPhone aveva tutta una serie di caratteristiche, era full touch, aveva un touchscreen invece dei pulsanti, incorporava un lettore di MP3, un client per leggere la mail, un browser e aveva un processore, le specifiche sono indicate qui, un processore ARM a 400 euro, optimagers. Ma l'iPhone non è stato il primo smartphone. Oggi noi pensiamo agli smartphone nell'ottica di iPhone di Android, ma pochi anni fa, praticamente poco più di un decennio fa, gli smartphone erano questi. Qui possiamo citare la serie Communicator della Nokia, che dal 96 al 2005 rappresentava lo smartphone. Era un computer integrato con un telefono cellulare. Faceva quello che oggi facciamo con gli smartphone, aveva un browser, aveva un plan di email, poteva telefonare, aveva anche una tastiera, come vedete andavano molto le tastiere a quell'epoca. Quindi lo smartphone risale addirittura al 96. No, lo smartphone è partito molto prima. Nel 92 l'IPM Simon era un vero computer ed un vero telefono cellulare. È stato un prodotto, oggi non è molto conosciuto, è stato un prodotto di un certo successo, ne hanno vendute decine di migliaia di esemplari e in un mercato del 92 era abbastanza buono perché anche i cellulari stessi non erano così tanto diffusi come oggi. Quindi vedete che il telefono, lo smartphone è stato qualcosa che viene da molto in là. Oggi noi lo usiamo tutti i giorni e l'idea di uno smartphone, cioè di un computer che sia anche un telefono parte da 30 anni fa o più. Un dettaglio, una digressione. I processori che montano tutti i nostri telefoni oggi sono processori chiamati ARM. ARM è il nome di un'azienda. Questi processori però non sono nati con l'iPhone. Venivano montati negli anni 90 in computer palmari chiamati Newton, ce n'è uno di là, prodotti dall'Apple. L'Apple stessa prima di fare i telefoni faceva computer palmari basati sullo stesso microprocessore e questo microprocessore, il principio su cui è basato questo microprocessore risale addirittura al 1985. Un'azienda inglese chiamata Acorn lo produsse per un particolare personal computer chiamato Archimedes. Poi l'Acorn ha smesso di esistere, è stata acquistata da Olivetti, ha fatto tante cose e l'azienda chiamata ARM è un'evoluzione di quella che era l'Acorn a quel tempo. Vi faccio notare come oggi un computer sofisticatissimo come può essere un iPhone viene venduto con una tematica leggera. Qui stiamo vedendo la pubblicità di un iPhone di qualche anno fa. Invece di mostrare che è un computer che è molto sofisticato e fa i calcoli, viene mostrata una situazione ludica. Un signore con l'iPhone in una piscina non è come i computer che c'erano prima che servivano solo a fare i conti, facevano cose noiose. Con questo ti diverti, sei in piscina, lo usi nel tempo libero. Questa è una idea di quanto si era mai diventata democratica la portata di tutti l'informatica. Magari poi vedremo qualche altro sport di altri computer più antichi e potremo confrontarli. L'Apple, tuttavia, prima di fare i telefoni, prima di essere un'azienda di telefoni, era anche un'azienda che faceva computer. In realtà li fa ancora oggi, ma è diventata una parte marginale del suo business. L'Apple oggi guadagna dei telefoni e dei servizi aggiunti. L'Apple era famosa prima per aver introdotto il Macintosh. Il Macintosh è stato il primo personal computer di grande successo a utilizzare le icone, il mouse, i puntatori, le finestre. Prima del Macintosh i computer di larga diffusione si utilizzavano solo alla tastiera. Abbiamo dei caratteri, i comandi andavano scritti digitando caratteri e eseguiti leggendo delle scritte o dei numeri. Il Macintosh invece ha cambiato tutto. Noi oggi usiamo il mouse, usiamo le finestre, abbiamo il puntatore da usare ogni giorno, perché tutti i nostri computer hanno preso ispirazione dei stessi principi che Apple aveva messo nel Macintosh dell'84. Questo è un piccolo esempio di come l'interfaccia utente si è evoluta nel tempo. Come vedete il sistema operativo a finestre, qua stiamo vedendo, è quello del Macintosh dall'84 a oggi. È cambiato, si è evoluto, lo schermo è diventato più grande, è diventato più colorato, ma i principi di base sono gli stessi, sono gli stessi dell'84. C'è il cestino, il cestino in basso destra tipicamente, c'è il menu, ci sono le icone, c'è il puntatore e queste cose sono rimaste così. Ma anche qui curiosamente non l'ha inventato l'Apple. I principi del computer che utilizzava il mouse, le icone, i puntatori erano già stati messi in commercio dall'Axeros nel 73 con il computer chiamato Alto. Era molto molto costoso, ha avuto una diffusione limitata e la stessa Xerox non credeva molto in questo prodotto, non lo ha mai spinto più di tanto. Tant'è vero che una buona parte degli sviluppatori dell'Axerox sono poi passati all'Apple per fare Macintosh. Naturalmente ormai potete intuire che anche l'Axerox non l'aveva inventato. All'Axerox avevano preso spunto dal progetto NLS, Online System, di Douglas Engelbart, un progetto di ricerca che ha portato il signor Engelbart a presentare, in quella che ancora oggi viene chiamata in modo un po' buffo, la madre di tutte le demo, a un convegno di informazioni del 68, una serie di cose che non si erano mai viste. Il mouse, il puntatore, il word processor, la videoconferenza in tempo reale, nel 1968. A quanto pare dopo queste dimostrazioni sono stati applausi scroscianti che non finivano più, perché potete immaginare cosa hanno visto quel signore del 68, hanno visto un'anticipazione del futuro. Nel 68 hanno visto ciò che noi usiamo oggi tutti i giorni, ma era già stato progettato. Ancora più indietro il progetto Menex di Vannevar Bush aveva gettato le basi per alcuni di questi aspetti. Il signor Bush aveva ideato un progetto concettuale che non è mai stato realizzato come oggetto fisico. Il suo progetto sarebbe stato una sorta di scrivania che incorporava un computer analogico basato su un meccanismo di microfilm per consultare i dati. L'utente avrebbe preso una cartuccia di microfilm presso una sorta di biblioteca, l'avrebbe inserita nel suo Menex e poi ne avrebbe consultato le informazioni. Attraverso un complesso sistema che non è mai stato realizzato avrebbe potuto individuare una parola in questo testo di microfilm, selezionarla e il computer avrebbe preso un altro microfilm che spiegava il dettaglio di quella parola. Suona familiare, io clicco su una parola e vado a leggere qualcos'altro che è legato a quella parola. Anni 40, tutto basato su computer analogici, elettromeccanici e microfilm, quindi una cosa che non si sarebbe neanche potuta fare, era troppo complicata. Però l'idea già esisteva. C'erano persone avanti per il loro tempo che le cui idee poi hanno legato decenni per diventare qualcosa di concreto per noi. Questa è la demo dell'online system di cui parlavo un attimo fa, questo è il signor Engelbart e mostra il primo mouse, come viene utilizzato nel 68, persone che hanno visto questo hanno visto il futuro veramente. Questo è il Menex. Parlando di pubblicità vi faccio vedere come negati 2000 all'Apple, mostravano la pubblicità del Macintosh, il computer di cui parlavo prima, confrontandolo con il PC. Questo signore più allegro, più giovanile, più simpatico rappresenta un Macintosh, invece il signore con gli occhiali meno divertente, più noioso che rappresenta dei grafici rappresenta il PC. L'uno si presenta solo un Macintosh, per dire che il Macintosh è qualcosa di divertente, non è qualcosa di noioso come un PC. Per quanto il Macintosh sia tecnicamente un personal computer, ma veniva confrontato con quello che si chiama PC, perché pochi anni prima l'IVM aveva presentato un computer chiamandolo PC, personal computer, che era diventato il personal computer per antonomasia. Non è il primo personal computer, non era l'unico, ma quando l'IVM ha presentato questo ha praticamente cancellato dal mercato qualunque altra cosa. Tutti i computer che noi usiamo oggi sulle nostre schieranie, compresi i Macintosh, tecnologicamente derivano dall'architettura di questo computer, che all'epoca non era né particolarmente innovativa, né particolarmente sofisticata, ma era facilmente standardizzabile e facilmente riproducibile. È stato un successo così grande che poi ha buttato l'IVM fuori dal mercato dei personal computer, perché i concorrenti li facevano meglio e più economici. Naturalmente anche l'IVM presentava il personal computer come qualcosa di divertente, non qualcosa di noioso come gli altri computer. In questo caso c'era tutta una serie di curiosità con un imitatore di Charlie Chaplin che mostrava come il computer può essere qualcosa di divertente, perché tutti dicono che da adesso è divertente, prima non lo era. I personal computer esistevano anche da prima dell'IVM, in particolare nel 1977 c'è stato un momento storico in cui i personal computer sono diventati popolari, sono diventati democratici. Prima nel 77 esistevano già altri computer personali, altri computer fatti per essere usati in una singola persona. Tuttavia, per coincidenza, nel giro di pochi mesi tre aziende completamente diverse hanno messo in commercio questi tre oggetti che vengono chiamati la trinità del personal computer. La Commodore ha presentato il PET, Personal Electronic Translator, che è un po' per fare un gioco di parole tra PET e cucciolo. L'Apple ha presentato l'Apple 2, la stessa Apple di cui parlavamo prima, e la Tandy Radio Shack, una catena di negozi elettronica americana, ha presentato il TLS 80, che in Europa è stato sicuramente meno popolare. Il Commodore PET è entrato in commercio nel 77 e è uscito nell'82. Come vedete aveva un design molto molto particolare, lo potete toccare con mano di là. Il PET aveva proprio una ricerca di un design, sembra, il computer, il classico computer dei film di fantascienza degli anni 70. Se voi guardate un film di fantascienza degli anni 70 in cui hanno un computer, hanno cose con questo design, con questa forma. Qualcuno l'ha anche descritto come a forma di suora. L'ha sempre trovato buffo a questa immagine. Il TLS 80 invece è stato messo in commercio da un'azienda che faceva elettronica di consumo, televisori, i-fi, eccetera. Anche questo venduto nella catena dei negozi degli Stati Uniti fino ai primi anni 80. Faccio notare che sia il PET che il TLS 80 condividevano un software chiamato Basic per gestirli che era fornito da una piccola azienda dell'epoca, come vedete qui c'è un PET il TLS 80, che si chiamava Microsoft e qui abbiamo i due fondatori. Anche questo signore l'avete sentito nominare. Questo signore ci ha lasciati l'anno scorso, purtroppo invece l'azienda poi ha cambiato nome ed è diventata anche questa qualcosa di grande. Quando erano giovani hanno iniziato fornendo il Basic alla Commodore e alla TRS. Il terzo invece è l'Apple 2. Il computer che ha reso popolare l'Apple. Non è il primo computer dell'Apple, lo si deduce dal nome. Il primo computer dell'Apple è l'Apple 1, ma che è stata una cosa assolutamente marginale, vendute poche centinaia di copie. L'Apple 2 invece è stato in commercio fino alla fine degli anni 80 nelle sue varie evoluzioni. L'Apple 2 è molto più costoso degli altri due che abbiamo visto prima al momento del lancio, però più sofisticato, aveva lo schermo colori che gli altri non avevano. Ricordiamo l'Apple 2 anche per un altro aspetto. Nell'Apple 2 è stato sviluppato questa cosa qui. Questo si chiama Visicalc ed è il nonno di quello strumento che molti di noi usano che si chiama Excel. Perché è particolare? Il foglio di calcolo, questo strumento che mi consente di inserire dei numeri e le relazioni tra i numeri stessi per poi automaticamente ricalcolare il valore della formula, ha la particolarità di essere qualcosa che non esiste nella realtà. Spiego meglio. Io con un computer posso scrivere dei testi. Ok, non è diverso da una macchina a scrivere molto sofisticata. Posso archiviare dei documenti e fare degli archivi. Gli archivi esistono come concetto anche fisicamente, ma una lavagna magica che trasforma i numeri man mano che io li cambio non esiste, non è qualcosa che esiste in realtà. Il foglio di calcolo è un esempio molto calzante di un software che non è una metafora di qualcosa che c'è nella realtà, perché non è un foglio quadretti, è qualcosa di molto diverso. Per questo ricordiamo l'Apple 2 perché è stato il computer, oltre a un computer molto famoso, il computer è stato sviluppato il primo foglio di calcolo chiamato Visicalc e poi ce ne sono stati altri e oggi tutti noi usiamo Excel. E con questo siamo arrivati agli anni 70.